Ciao amici, conoscete vero il mio metodo viso lift per ringiovanire il viso? Ne sto parlando da un po' di giorni e sta riscuotendo molto interesse. Del resto chi non vorrebbe ringiovanire il viso in modo naturale e senza troppe complicazioni? Il mio metodo è un sistema naturale che funziona davvero, ma la cosa bella è che non lo dico solo io, ma lo dicono le persone che hanno già utilizzato il metodo viso lift e sono riuscite a migliorare anche in poco tempo e con grande soddisfazione. La nostra Valentina racconta, mi chiamo Valentina e tempo fa ero molto abbattuta perché il viso aveva perso freschezza e mi stavo riempiendo di rughe, non potevo più guardarmi allo specchio. Con gli esercizi del metodo viso lift la situazione è cambiata drasticamente e ora sono contenta, quando mi guardo allo specchio mi dico beh Valentina per la tua età non sei male ed è vero Valentina, grazie della testimonianza. Ciao sono Jasmine, quello che mi dava più fastidio prima di conoscere il metodo era il doppio mento. Stavo valutando un piccolo intervento, poi ho trovato il metodo viso lift e ho risolto il problema. Adesso ho anche la pelle più liscia e meno rughe, mi chiedono se ho fatto un lifting ma per fortuna non l'ho fatto e penso che non lo farò mai. E questa è la testimonianza di Serena. A un certo punto quando mi sono vista con il viso molto segnato ho iniziato a pensare ma cosa pretendi alla tua età? È logico che il viso perde il suo ovale e si riempia di rughe. Invece facendo gli esercizi in poco tempo ho ritrovato le forme del mio viso e adesso sono molto soddisfatta. La routine di esercizi è anche rilassante e non ci metto molto tempo a farli tutti. È vero. E questa è la mia testimonianza? Sono io? Prima di iniziare la sequenza di esercizi l'ho scritta ve la leggo. Di tonificazione del viso le mie palpebre si erano riempite di pelle cadente e il viso era molto più segnato dalle rughe. È vero. Per questo ho prima cercato e poi creato una soluzione. Ora va molto meglio. Sono pronta a condividerla con chi come me vuole ottenere risultati in modo naturale e non invasivo. E le immagini parlano da sole. Ecco amici questa era la testimonianza delle persone che hanno iniziato a usare il metodo e io spero di poter far vedere presto altri video con la vostra trasformazione perché so che sarà spettacolare. Ora potete andare a leggere tutti i dettagli del video corso Metodo Viso Lift nella pagina dedicata. Basta cliccare sul link e poi iniziate a seguire gli esercizi e fate splendere una nuova luce sul vostro viso. Fatemi sapere come va, cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali e anche presto giovani e splendenti qui naturalmente. Ciao!